Oggi sono qui per parlarvi di lui, il nuovo Sony A80K, 77 pollici OLED, ma ci sono anche altre due versioni da 55 e da 65 pollici. Oggi voglio raccontarvi la mia esperienza dopo circa un mese di utilizzo con questa tv spettacolare. Long story short, me ne sono innamorato. Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video, io sono Blink46 e oggi appunto parliamo di un nuovo modello di Sony, ovvero l'A80K. 77 pollici OLED, una tv veramente spettacolare. Partiamo subito dall'esperienza di unboxing che è stata la classica Sony, ottimo l'imballaggio e la tv è facile da estrarre dalla scatola senza aver paura di rompere tutto quanto. Ovviamente per una tv di queste dimensioni è consigliato farlo almeno in due, altrimenti si rischia veramente di fare danni. La prima cosa che è saltata all'occhio rispetto al mio vecchio televisore, ovvero un XH8086 sempre di Sony da 85 pollici, è stata la semplicità di installazione dei piedini ma soprattutto la modularità. Infatti è possibile posizionarli in tre configurazioni diverse, stretta, larga oppure rialzata per posizionare una soundbar nella parte inferiore. Nel mio caso però non avendo una soundbar sono andato a installarlo nella posizione più larga e bassa possibile in modo da avere la maggiore stabilità. Per quanto riguarda la posizione più stretta delle zampe non la trovo esteticamente piacevole perché risultano troppo vicine alla parte centrale della tv ma sicuramente può risultare comodo per chi magari non ha un mobile tv abbastanza grande. Anche se non so perché qualcuno dovrebbe mettere un televisore di queste dimensioni su un mobile molto più piccolo. Nella parte posteriore troviamo due USB, un'uscita ottica, un jack da 3,5 che può essere utilizzato in due modi come uscita per collegare delle cuffie o casse oppure come ingresso per utilizzare gli speaker del televisore come altoparlante centrale. 4 HDMI di cui 2 4K 60Hz e 2 4K 120Hz e una delle due è anche eARC per collegare l'eventuale amplificatore. Una presa Ethernet e ovviamente le antenne. Gli altoparlanti interni della tv devo dire che mi hanno stupito sicuramente non è fondamentale una soundbar ma se avete una tv di questo genere è consigliato almeno io mi sento di consigliarvi un impianto audio perché l'immagine è spettacolare. Io come vi ho detto sono passato da un Sony 85 pollici XH 8086 che è un full array led. In questo caso invece abbiamo un pannello da 77 pollici o led ma ha una qualità, un contrasto dei colori che sono fuori di testa. Non che la tv che abbia utilizzato fino adesso facesse schifo eh, anzi ma mi è capitato più volte di ritrovarmi a vedere dei film o dei contenuti in HDR e dire wow ma si vede veramente veramente bene. È qualcosa che va provato di persona perché è veramente spettacolare. Parlando di contenuti in streaming colgo anche l'occasione per parlarvi dello sponsor del video di oggi ovvero NordVPN. Come molti di voi sapranno io ho impostato NordVPN direttamente all'interno del router di casa mia il che mi permette di utilizzare la VPN su tutti i dispositivi connessi contemporaneamente. Questo significa che posso utilizzarlo anche con la tv, non tanto per la navigazione sicura ma per magari accedere a dei contenuti che sono bloccati in Italia come possono essere film o serie tv. Infatti mi basta un click per attivare la VPN e direttamente dall'applicazione della tv posso accedere ai contenuti che prima erano bloccati. Ovviamente la stessa cosa si può fare sia da pc che da smartphone utilizzando l'app di NordVPN. Applicazione che è sempre presente sia nel mio smartphone che nel portatile perché ad esempio quando viaggio e mi devo connettere a delle reti wifi pubbliche posso farlo in tutta sicurezza. Inoltre dal 22 di agosto c'è una nuova promozione con il link che trovate in descrizione c'è un super sfonto come al solito ma nel piano biennale vengono regalati 4 mesi aggiuntivi. Ovviamente rimane comunque la possibilità di fare la prova di 30 giorni quindi non costa niente. Trovate maggiori informazioni con il link in descrizione. Ho cercato di utilizzarla un po' per tutto. Come vi dicevo prima ho guardato sia YouTube, Netflix, Sky, in generale un po' di tutto. E qualsiasi contenuto si è visto veramente veramente bene. Come vi dicevo i colori sono spettacolari, il contrasto è assurdo, i neri sono super neri, è veramente luminoso soprattutto nei contenuti HDR. In alcuni casi forse anche troppo però ovviamente la luminosità massima di picco si può regolare. Il blooming in questo caso è inesistente anche nelle scene proprio di nero bianco. L'immagine rimane completamente perfetta e l'angolo di visione è veramente fenomenale. Non importa da dove vi mettiate si vede sempre sempre bene. Il pannello è lucido quindi con i riflessi soffre un pochino ma molto molto meno di tanti altri modelli che ho visto che fanno il riflesso effetto specchio e non si vede niente. Anzi non so come siano riusciti ma viene diffusa comunque la luce nonostante sia lucido il pannello. Se avete delle luci dietro al divano ad esempio non danno troppo fastidio. Cosa particolare all'interno vengono forniti due telecomandi. Uno un po' più classico questo qui squadrato e un altro senza tastellino numerico decisamente più piccolino. Soprattutto rispetto a quello della generazione precedente. Questo è il mio nuovo telecomando preferito. Questo invece risulta decisamente più economico rispetto suo fratellino. Non tanto per la qualità costruttiva ma proprio per la pressione dei tasti. Risultano un po' gommosi e non si capisce effettivamente quando viene premuto. Mentre su questo telecomando abbiamo un buon feedback con un click eccetera e si capisce esattamente cosa stiamo facendo. Non si rischia di premere i tasti per sbaglio. Veramente fenomenale. Decisamente più piccolo e comodo rispetto a questa versione. Da questo punto di vista un passo in avanti a mani basse. Ovviamente essendo una tv Sony di nuova generazione non potevo non provarla per il gaming e con la playstation. Ed è stata un'esperienza super seamless. La configurazione per quanto riguarda le impostazioni da utilizzare video è stata automatica. Viene riconosciuto immediatamente come playstation 5. E' attivato e disattivato automaticamente sia il variable refresh rate che l'hdr in caso di necessità. Per il gaming da console è fenomenale. Non ho ancora avuto modo di testarlo con il pc più che altro perché se devo giocare con il controller tante volte mi ritrovo più comodo con la playstation. Anche perché su uno schermo di queste dimensioni è difficile che mi ritrovi a giocare con mouse e tastiera. Cosa non mi è piaciuto di questo televisore? Effettivamente poco. Il prezzo per il modello da 77 pollici è abbastanza alto. Ma stiamo parlando di una tv top di gamma con una qualità veramente fenomenale. Una delle cose che non mi è piaciuto appunto è stato questo telecomando con il tastierino numerico. E poi una cosa che mi è risultata molto strana. Ovvero quando navighiamo all'interno del menu della tv risulta veramente spento. Non so per quale motivo. Ho cercato tutte le impostazioni ma nei menu della tv risulta super dimerato. Come se fosse al 30-20% della luminosità. Quando però poi facciamo partire un contenuto soprattutto hdr. Boom! Abbiamo un'esplosione di luminosità e torna tutto super bello e super visibile. Ho cercato un po' nei menu ma non sono riuscito a trovare una soluzione. È tutto al massimo. Quindi se qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema fatemelo sapere che magari vedo di risolvere. Effettivamente non è un grosso problema perché nel menu non ci serve avere chissà che illuminazione. Ma risulta proprio appunto spento. Sembra quasi che ci sia un risparmio energetico attivo. Cosa che in questo caso non è così. Quindi in conclusione mi sento di consigliarlo. Se potete permettervelo assolutamente sì. Il prezzo non è bassissimo ma stiamo parlando di un televisore appunto top di gamma. Se state cercando un televisore che vada bene per tutto. Per vedervi le partite, per giocare, per guardare dei film e essere stupiti ogni volta dalla qualità delle immagini che state guardando. Allora è una tv adatta per voi. Se invece volete avere un'ottima qualità video ma spendendo decisamente di meno. Vi consiglio di andare su una versione full array led che comunque ha una qualità spettacolare. Non avete ovviamente la stesso contrasto, c'è un po' di blooming eccetera ma sicuramente vi tenete tanti soldi in tasca. Personalmente io però mi ritengo soddisfatto e soprattutto accompagnato all'impianto audio che sto creando. È un piacere guardare sia film che sia le tv che qualsiasi cosa. Fatemi sapere voi con un bel commento che cosa ne pensate. In descrizione trovate maggiori informazioni per questa tv. E da Blink è tutto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao! Vi ricordo che è disponibile BlinkMyPC, il sito perfetto per essere sicuri di realizzare il proprio nuovo computer al meglio spendendo il meno possibile. Realizzando configurazioni personalizzate oppure scegliendo tra quelle proposte in base al prezzo desiderato. Ovviamente non mancano le offerte in tempo reale, recensioni, articoli e il merchandise. Trovate il link in descrizione. Grazie per la visione!